ciao sono salvatore ferrante lavoro per gruppo friuli assicurazioni ho frequentato la scuola di assicuratore facile ed è stata un'esperienza fantastica è stato meraviglioso sviluppare le diagnosi dei rischi per i miei clienti e ricevere i loro ringraziamenti per essere stata la prima persona a rendergli chiaro il complicato mondo assicurativo devo dire che da quando sto utilizzando questo metodo aumentato in primis le mie competenze ho targetizzato il mio portafoglio e anche aumentato le vendite consiglio a tutti i miei colleghi di frequentare la scuola perché un mondo che cambia così velocemente ci dobbiamo far trovare pronti e credetemi che tante volte pensiamo di esserlo ma non lo siamo ringrazio di cuore simone per la formazione e la dedizione che ci mette nella sua mission senza nulla e togliere al suo staff che sin dal primo giorno mi ha accompagnato nelle difficoltà ed è sempre stato celere nell'assistermi grazie